Allora, a te Allora Vabbè questo lo leviamo, il magnifier Il mirino C'hai la sicura ce l'è qui Però questa è la lunghezza del calcio La puoi allungare quanto ti pare Tiri e tiri questo Sul pollice c'hai Stai in sicura? Colpo singolo raffica Singolo e raffica Prova col colpo singolo Due al centro, due al centro presa Due a sinistra, due a destra Ci vedi? Non tanto Non è acceso? Infatti stavo vedendo Non è acceso Quali? Eccolo A te Dicevamo Due a sinistra, due a destra Due a 200 Due a sinistra, due a destra Due colpiti E' una nuova A folle E' una nuova A folle 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 Metti in sicura Vuoi provare la distanza maggiore? No Vai Chi tocca? Te dico una domanda La pistola E' certo Poi proviamo anche la pistola Vai figlio Vai Favamo tutto il giro Beh poi appoggia anche sopra Prego Mi hanno sudato gli occhiali Mi hanno sudato gli occhiali? Ok Voi giocate con sto gigi in faccia? Ah ecco Allora il calcio lo pree a lunga a coccia Si a coccia Ok Ok Due a sinistra, due a destra Centro, sinistra, destra Due colpi a destra Ma non si riesce a mirare con questo? Eh sì Allora guarda Questa è la sicura Ok Allora Non ci riesco Hai detto due al centro? Due al centro Due a sinistra o due a destra? Com'è? Adesso vedo il minino Vanno bassi Eh potrebbe essere anche il mirino dalla tumare Si il mirino miro al centro e va più in basso Trova la raffica Questo è un Neotec 550 Se non sbaglio Forse è il 550 Questa è? Sicura Sottile? Yes Assolutamente Assolutamente Prima Assolutamente